È interessante sentire da chi non è assistente sociale alcuni aspetti che sono propri nel nostro quotidiano e che ci mettono e ci pongono delle domande corti, non solo quotidianamente ma direi per molte ore nella stessa giornata. Non sto a sottolineare tutto perché penso che i colleghi siano molto attenti e quindi vorrei terminare un primo giro, chissà forse riusciamo a farne anche un secondo e quindi andrei avanti, ma non perché non ha stimolato, anzi mi sono puntata a una serie di cose e poi vedremo quello che accade.